In questo video vedremo come generare un report complessivo di metriche di utilizzo dei nostri report all'interno della Power BI Service contenente tutti i dati di tutti i workspace che noi desideriamo. Col sistema standard di Microsoft possiamo generare un database di metriche barra report su singolo workspace però con gli strumenti standard di oggi non posso avere una metrica complessiva di tutti i workspace che io voglio tenere sotto traccia. Se vedete qui ho generato un report e qui sono tutti i workspace che ho desiderato monitorare. Se apro poi un workspace trovo tutti i report che sono contenuti nel workspace e poi vado sotto di livello e vedrei ad esempio gli utenti che stanno accedendo a quel singolo report. Qui ho fatto un sintetico del database delle metriche che viene gestito in automatico da Power BI però potremo andare ad estenderlo in modo complessivo o addirittura aggiungere ulteriori informazioni. Tant'è che se vediamo il modello io qui l'ho ristorato ho tirato fuori la tabella dei fatti quindi quanti accessi vengono fatti la tabella degli utenti e la tabella dei report. In più ho messo una tabella di date che è decisamente meglio di quella usata da Microsoft perché qui è la mia solita tabellina del calendario che ha dentro tutti gli attributi che possiamo utilizzare per la nostra data. Così posso andare a fare ad esempio anche l'anno mese che su quello delle metriche standard non c'è. Oltre a questo andremo a capire anche come creare uno storico di dati perché le usage metrics classiche tengono 30 giorni. Con questo sistema possiamo fare uno storico dei nostri accessi di quanto noi desideriamo. Come ho fatto a generare questo report? Come ho preso i dati? Allora ho preso i dati andando a generare uno script in PowerShell. Quindi che cosa succede? Prendo i dati, diciamo PowerShell, adesso guardiamo anche lo script, ho creato una cartella, quindi metriche in questo caso. Ho creato una cartella sorgenti. Queste cartelle che vedete qua sono i nomi delle tabelle che sto andando a estrarre dal mio database di metrics per ogni singolo workspace e all'interno di ogni cartella viene posto un file con il nome del workspace, il nome della tabella e la data giuliana. Così quando noi andremo a scaricare i dati più volte potremo andare ad accodare l'ultimo miglio all'interno del nostro dataset. Quindi il dataset finale avrà solo i dati univoci e però potremo storicizzare quanto vogliamo. Facendo così, avendo il nome del workspace, il nome della tabella e la data giuliana, non rischiamo mai di fare estrazione e di sovrascrivere dati con altri dati. Quindi questo è il sistemino che ho adottato. Se andiamo a estrarre la tabella per la prima volta, ripeto, si crea anche la cartella in automatico. Quindi partendo da una folder principale che c'è qua, che vedremo poi nel PowerShell, quindi io dichiaro questa, da qui in poi lui va a lavorare sulla cartella sorgenti e da qua crea tutto in automatico. Quindi quando abbiamo tutte le sorgenti poi è semplice in Power BI, lo vediamo alla fine la parte di Power Query che è la cosa più semplice. Vediamo i moduli di PowerShell che ho utilizzato. Allora, questo qui, faccio un po' di zoom, è uno script che vi permette di installare il modulo per poter interagire con Power BI. PowerShell, se non sapete che cos'è o come si accede, si va giù nella barra di ricerca, andiamo sulla lente e qui scriviamo PowerShell. Io utilizzo l'ISE, dato che dobbiamo installare un modulo conviene accedere come amministratore, quindi clic destro e esegui come un amministratore. Dovrebbe installarsi correttamente anche se accedete senza le modalità amministrative, però quando si fa un'installazione è sempre meglio andare come amministratore. Quindi cliccato qua vi dà un pop-up, dite sì e si apre in modalità amministrativa. Infatti vedete qua su in cima c'è un amministratore. Quindi scrivete semplicemente questa riga e premete play. Lui andrà ad installare tutti i componenti che sottendono a questo modulo, così potremo usare tutte le sue librerie. Dopodiché andiamo a eseguire questa parte qua. Quando noi installiamo il modulo, se andiamo subito a eseguire questo script che scarica tutte le tabelle, funziona immediatamente. Però se chiudiamo PowerShell e poi lo riapriamo, perde dei permessi. Quindi questo secondo script che cosa fa? Noi sottolineiamo questa riga, vedete. Faccio un play, così eseguo solo questa riga e lui mi dice guarda, ho current user remote signed. Se lo lanciate voi probabilmente vi darà non definito. Quindi il non definito che cosa succede? Se lanciamo questa seconda riga io vado a dirgli guarda prendi l'esecuzione delle policy e metti una remote signed. Quindi vado a cambiare il tipo di policy. Avendo cambiato il tipo di policy, ok, poi riverificate lanciando questa riga che effettivamente sia come la vedete me, potete andare a lanciare questo script che andrà a parlare con Power BI Service e farà tutto quello che voi desiderate. Questo è uno script che ho realizzato io, mi sono fatto aiutare un pochettino dall'intelligenza artificiale, ma diciamo che è tutta roba mia. E che cosa succede? Praticamente se vedete io qui, faccio un po' di dezoom, vado a definire una variabile e qui dentro ci metto all'interno delle virgolette, poi virgola, virgolette, ci metto tutti i nomi di workspace al quale io mi voglio connettere per scaricare praticamente la stessa tabella. Dopodiché gli dico su quale dataset voglio operare e già qui vedete che metto UsageMetricsReport, però questo script non serve solo per tirare fuori i dati dal database delle metriche, potenzialmente possiamo tirare fuori i dati da qualsiasi dataset di Power BI. Basta mettere il workspace, il nome del dataset e poi nella variabile successiva mettiamo tutte le tabelle che vogliamo andare ad estrarre. Quindi lui che cosa farà? Farà un ciclo per ogni singolo workspace, estrarà dal database UsageMetricsReport queste tre tabelle e andrà a scriverle appunto nella cartella qui sorgenti come vi avevo indicato. Quindi se non esiste la cartella la crea, se è già creata e comunque inizia a popolare i file, mi scarica tutto in CSV, mi mette nome workspace, nome tabella e data giuliana. Questo è quello che fa lo script in PowerShell. Quindi sulla prima parte voi definite solo queste variabili, qui prendo praticamente la data giuliana e qui gli metto il percorso da dove deve andare a scaricare i file. Quindi vedete io ho questo percorso, dico guarda dentro la cartella sorgenti andrai a generare tutte le folder e tutti i file che andrai a scaricare da Power BI Service. Perfetto, questi sono i parametri che dobbiamo settare. Sotto fa tutto da solo, praticamente la scorriamo velocemente. Per chi è abbonato ho trovato ovviamente il file in descrizione che potete andare a scaricarvelo ovviamente. Chi non è abbonato abbonatevi oppure copiate tutto quanto, adesso lo scorro velocemente. Qui praticamente che cosa faccio? Vado ad assicurarmi se è tutto installato, quindi faccio un controllo che abbiate installato tutto quanto, altrimenti si installa. Comunque procedite manualmente come vi ho fatto vedere qua. Verificate l'installazione dei moduli necessari. Qua controlla il componente proprio questo, se è tutto a posto. Vado giù, importa i moduli, quindi mi importo i moduli che andrò ad utilizzare sotto. Qui vado ad autentificarmi con Power BI perché quando andrò ad eseguire questo script farò play, lui mi dice loggati e mi logggo ovviamente che ho le credenziali di Power BI. Una volta che sono loggato lui parte e inizia a fare questo ciclo for each che va proprio ciclo attraverso ciascun workspace come vi dicevo prima. Quindi qua va attraverso le variabili, cicla all'interno dei workspace, poi recupera il dataset, quindi prende il nome del dataset che ho definito sopra, usage matrix report. E poi cosa succede? Ciclo attraverso ciascuna tabella che ho definito perché all'interno del dataset voglio estrarre più tabelle senza dover lanciare lo script ogni volta. Le definisco tutte quante una volta e estrago tutto automaticamente. Vado giù qui, ricostruisce un po' tutto quello che c'è da fare, estrae i dati, prepara i dati in memoria eccetera eccetera. C'è una gestione degli errori, ci sono diverse righe di log che compaiono con sotto, lo lancio così, lo vedete. E che succede? Andiamo giù, 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 a un certo punto lui ha generato tutto quanto ed esporta il CSV dove lo esporta e lo esporta sul percorso che abbiamo definito sopra. E poi mi dà una riga di script completato con successo. Ovviamente attenzione perché magari mettete 15 workspace e dentro il workspace non su tutti avete generato le metriche perché non è che se lanciate questo script lui entra nel workspace e crea le metriche. Se non esistono dovete assicurarvi di averle create. Quindi come visto nel video di utilizzo delle metriche semplice andate a creare il database di metriche. Ve lo faccio rivedere molto velocemente come si fa. Entriamo sul servizio di Power BI. Andiamo su un workspace dove non abbiamo le metriche ad esempio. E perché se la metrica non è presente comunque vi esce una rigaranzione. E dice guardate che questo workspace non l'ho trovato perché non c'era il database. Comunque l'output che viene generato qui vi avvisa. Quindi per generare la metrica andiamo su un qualsiasi report all'interno del workspace dove non è presente. Tre puntini. View usage metrics report. E qui si creeranno le metriche che da quel momento inizieranno a memorizzarsi. Quindi fatto sta cosa noi che cosa facciamo? Facciamo semplicemente un play. Adesso magari tolgo un po' di workspace. Facciamo così. Ne metto uno solo. Che così va via più veloce. Faccio un bel play. Qui mi dice che praticamente va a salvare il file per eseguirlo. Lì dico va bene salverlo. E vedete che lui adesso qui parte. Mi chiede le credenziali. Mi logo con un click perché mi sono già logato. E lui qui sta andando ad analizzare tutto quanto. Qui adesso fa la query di estrazione. E tra un pochino inizierà. Ecco sta tirando fuori tutti i dati. Sta andando a impaginare i dati che dopo metterà nel CSV. Quando finisce ecco che sta andando giù infine. Sta facendo la seconda tabella. La terza script completato con successo. Se il database non fosse esistito. Quindi se questo qui non fosse esistito. Mi avrebbe dato una rigaranzione in cui me lo dicevo in modo molto chiaro. Script completato con successo. Quindi lui mi ha estratto questi dati all'interno della mia folder. Perfetto. Il lavoro grosso è stato fatto. Abbiamo estratto i dati dalla service. Quindi con uno strumento di ETL poi possiamo decidere come meglio credete per gestire i dati di storico. Potreste gestire un access dove prendete i dati e accodate solo l'ultimo miglio. Lo fate con Power Query. Fate un raggruppamento di dati in modo che se avete stretti i record, le metriche tutti i giorni. Dato che estraete 30 giorni. Comprime quindi non vi trovate il record opi. Ci sono mille modi. Lo mettete in SQL Server. Vedete voi come volete gestirlo. Alla fine il succo, il nozzolo, il cuore è proprio questa funzione. Fatta sta cosa, io qui ho fatto tutto con Power BI. Ok, quindi sono andato in Power Query e che cosa ho fatto? Sono partito dal database, quello standard file. Recupera dati, modelli semantici di Power BI. Qui mi sono collegato a un dataset standard di Microsoft per vedere come era fatto il modello. Perché da qui poi sono partito a capire quali tabelle mi tiro fuori. Perché io ho guardato questo dataset che sono in Direct Query. Dato che non lo possiamo scaricare questo modello e vedere come è creato e tutto quanto. Sono entrato qua e mi sono guardato un attimino come funziona. Quindi sono andato nel frontend, mi sono fatto una tabellina, ho guardato da dove prendevo le informazioni. Sono venuto di qua e mi sono guardato le connessioni come funzionavano. E le ho replicate allo stesso modo. Poi le misure, dato che qui non possiamo vedere il DAX che sta sotto a queste misure perché siamo in Direct Query. Ovviamente sono andato un po' in tutto. So che questa è la tabella dei fatti, quindi scendiamo qui questa tabella dei fatti. Mi sono guardato un attimino i dati perché possiamo anche vedere il contenuto. Tant'è che se andiamo su Power Query, vedete qua sono sulla tabella di report. Io adesso vedo tutti i dati, se sono in Direct Query io queste informazioni non ce le ho, non le posso vedere. Se vado in Power Query non c'è niente, quindi non posso vedere il contenuto delle tabelle. Posso solo vedere il risultato da frontend che è quello che andiamo a realizzare. Invece avendo scaricato tutto ovviamente vediamo tutto. Quindi qui che cosa faccio? Ho replicato le due misure principali. Ho messo la misura, questa qui che cos'è? Distinct Count, praticamente il numero dei report, report viewers e report view. Praticamente questi sono gli utenti distinti che stanno accedendo a ogni singolo workspace. Poi se apro, ripeto, vedo gli utenti distinti che stanno utilizzando questo specifico report. Se scendo di dettaglio, nel caso che ho usato qui, vedo anche chi sono gli utenti che stanno accedendo. Quindi utenti distinti e gli accessi che stanno facendo nel periodo che ho selezionato qua. Quindi se poi io vado ovviamente a stringere, qui mi cambiano tutte le metriche automaticamente. Voglio vedere una specifica settimana questa o questa, vedete che cambia tutto in automatico. Quindi è molto più avanzato di quello standard perché abbiamo una visione completa dei nostri dati. Qui per importarmi tutto, che cosa ho fatto in Power Query? Ho semplicemente importato la cartella dei dati. Se andiamo a vedere l'origine, vedete che io mi sono connesso con questo driver qua. Sono andato su altro e qui ho preso cartella. Io ho definito la cartella, quindi ho scelto proprio la cartella, metriche, sorgenti. Ho preso ad esempio questa e ho premuto ok. Qui ci sono tutti i file, così poi lui crea praticamente queste corette che le lasciate stare attimamente non funzionano niente. Le crea in automatico e vi tira su praticamente tutte le informazioni. Quindi crea queste cose. Esplode i dati. Ok, per ogni singolo CSV va ad esplodere le informazioni. Quindi va, esplode le informazioni. Qui ho tolto questa colonna, rimosse. Poi ho espanso tutto. Modifica tipo, ho messo in ABC questo. E ho raggruppato con le colonne che mi interessano. Ho fatto il raggruppamento qui. Quindi non ho fatto una processione di ETL che mi crea la tabella fatta bene con i report puliti. Partendo da tutti. Quali prendo tutti e poi faccio un raggruppamento in modo da non avere duplicati. E qui ho tolto quanto. La stessa cosa con il report di fatti, con la tabella di fatti e quella degli utenti. La tabellina delle misure semplicemente permette di sientrare tutte le metriche. La tabellina delle date. Ho fatto un filtro alla fine che va a fare, praticamente prendi la data minima e la data massima rispetto a quella che trovi infatti così. Questa qui ha dentro, parte con 5 anni di dati, va indietro di 2 anni, va avanti di 3. Con la mia classica che vedete su 50.000 video che ci sono nel mio canale YouTube. E qui che cosa ho fatto? Ho fatto un data min e un data max all'interno della mia tabella dei fatti. Quindi ho fatto un riferimento, tasto destro, sulla tabella dei fatti. Ho fatto un riferimento, così parto dall'ultimo passaggio. Ho fatto un raggruppo e gli ho detto, perfetto, prendi il workspace e poi mi fai data minimo sulla colonna date. Ok? Che è la data che poi viene poi utilizzata all'interno del modello. Perché se vado qui con le date, adesso qua è saltato per quel motivo, vedete, mi connetto a questa data. Quindi vado a fare un riferimento su questa cosa qua. Ok. Fatto questo, praticamente vi potete sbizzarrire come meglio credete. Qua ci sono le misure standard, le prime tre. Volendo potete andare a replicare tutte quelle che ci sono nel report standard, oppure andare a crearle diversamente, o fare tutto quello che volete, o connettere altri dati. Insomma, sbizzarritevi come meglio credete. Se il video è stato il vostro regolamento, lasciate un bel pollizioni in su. Ditemi un po' cosa ne pensate di questa cosa che ho sviluppato, un po' fatta scientifica, ma che dà una visibilità completa su tutto quello che potete andare a monitorare e gestire all'interno di Power BI Service. Così mi aiuterete a piazzare meglio il video all'interno della piattaforma. Se invece vorrete sostenermi in modo molto incisivo e incentivarmi a fare altre cose come queste, magari pensate a stipulare un abbonamento al canale, perché per me è veramente molto molto importante il vostro sostegno. Senza di voi non sarei ancora qui a fare video, perché mi date veramente un aiuto molto forte. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!